Il settore dell'edilizia è quello che soffre maggiormente, in difficoltà sono tutte le piccole e medie imprese. Gli industriali della Capitanata però ci credono e guardano al futuro con fiducia. In provincia di Foggia mancano le infrastrutture, dicono, tracciando un bilancio a fine anno, su tutto è un aeroporto che possa essere definitivo volano di sviluppo per il territorio. I trasporti ferroviari sono da migliorare, ma nel complesso il settore tiene, la crisi va combattuta anche con l'ottimismo e l'aiuto dell'Europa. Abbiamo delle industrie storiche importanti che sono di grande dimensione, penso alla Lenia, forse il polo più importante della Lenia è proprio qui a Foggia con l'incremento dell'occupazione. Abbiamo il più grande conservificio d'Europa che adesso è stato acquisito dagli inglesi. Cioè voglio dire, tutto sommato l'industria tradizionale sta tenendo, è la piccola industria che sta in difficoltà perché il mercato domestico praticamente non esiste più. Allora se tu devi vendere in un posto dove non ci sono gli acquirenti diventa difficile farlo. Io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Credo che se l'Italia, l'Europa ricomincia a crescere, noi abbiamo delle caratteristiche importanti. Noi siamo la capitale del turismo pugliese, abbiamo il Gargano, siamo il tavoliere delle Puglie, il secondo pianura agricola dell'Italia. Cioè la provincia di Foggia non può fare altro che crescere.